Allora non faccio molta figlia, vado qui là. Vado, vado. Ci dica qualche cosa, commendatore? Che devo fare un mezzo litro, otto litri di pipì. Oppure me la tengo come zavorra, adesso devo pensare. No, no, tieni, la che così è più veloce. Infatti, infatti, la tengo. Tieni, la tieni. Sì, sì, la tengo. Sei caldo? Caldissimo. Punti alla vittoria assoluta? No. Come no? Sì, sì. Ah, certo. Chi è che vuoi battere? Dillo, dillo. Chi è il numero uno in questo momento? Devo abbattere Scott. Ecco. Lo abbatteranno loro prima di me. Frick, mi firmi la pezzorina.